Si era appena diffusa la notizia che Medias avrebbe trasmesso in esclusiva questo documentario e la prima telefonata che ho ricevuto è stata quella del generale Leonardo Tricarico, detto Dino, che con la voce imperiosa che conoscete e sentirete mi ha detto Telese, questa cosa del missile è una balla, quel documentario è una montagna di frottole e fantasie. E' convinto e sostiene anche qui stasera questa tesi con questa vemenza? Al netto dell'enfasi che le ha messo, che io non ho messo, la mia voce è quella, ma l'enfasi non era quella, sostengo esattamente questo. Ossia sostengo che Ustica sia stata una gigantesca e perdurante missificazione della verità, a danno della verità stessa e naturalmente del cittadino italiano che è stato sistematicamente per l'Ustri disinformato e depistato rispetto poi a quello che non io, né i generali né altri, ma la magistratura hanno accertato come verità. C'erano gli aerei o no? Lei, questa è una cosa importante, lei vuole dire, non c'erano gli aerei? Non c'era nessun aereo intorno al velivolo 19 Italia. Quella sera, in volo. Non c'era nessuno, non c'era nessuno. Le faccio vedere che leggera un documento della Nato, perché la Nato, le sa, ha risposto a una delle tante erogatorie, ha fatto vedere questo elenco con tutti gli aerei che erano in volo quella sera. È una specie di appello di una classe molto nutrita. Come vedrà ci sono alcuni che sono sconosciuti, cioè non appartenenti al patto atlantico, i cosiddetti zombie. Lei si sente di negare che non ci fossero aereo in volo con tutti gli aerei? Lo dice la Nato, non ci crediamo. Nella zona dell'incidente non c'era nessun aereo. Dopodiché, a testimonianza della veridicità di quanto sto affermando, le dico che non c'è l'evidenza del missile, ossia se fosse stato un missile si sarebbero dovute trovare le tracce, la firma del missile. Non esiste alcun missile oggi nel mercato degli elementi. Come è caduto l'aereo quindi, secondo lei? Per una bomba a bordo, nella toaletta. Questa è la verità, diciamo stabilita da... E la toaletta è l'unica parte rimasta integra dell'aereo? Gli oblò non sono esplosi per l'esplosione? Ci sono addirittura le tavolette, lei lo sa? Generale, lo sa che ci sono ancora le tavolette integre di questa toaletta? Guardi, allora, stia a sentire. Ma mi risponda sì o no, lo sa o no? Perché secondo me non lo sa, non ha mai visto questi atti. Li ha visti o no questi atti? Ma lei non mi deve fare... Ma mi risponda sì o no, come faceva lei con i suoi quando gli interviste... Ma può rispondere no e argomentare? Ma lo sa o no che c'erano i pezzi integri? No. Non lo sa? Non lo so. Allora glieli faccio vedere. Quella è la tavoletta integra. Benissimo. È scoppiata una bomba e è rimasto intatto il lavandino, il vader e la tavoletta. Non evidenzia niente. Quello che evidenzia la bomba lo sa che cos'è. Allora, noi siamo stati, diciamo, un po' motteggiati da un esperto svedese, un certo Goran Lilia, che ha scritto un libro su questo argomento. Sì. Allora, nel libro, a un certo punto, schematicamente evidenzia il perché solo l'ipotesi bomba è quella plausibile. E quindi, fra tutti i fatti, le circostanze accertate sul relitto, fa vedere che soltanto l'ipotesi bomba è quella che rende compatibili tutte queste circostanze. C'erano i caccia francesi, secondo lei? C'era la porta aerei francese nel Tirreno? Lei lo sa sicuramente che è stato trovato, proprio a fianco a quei relitti, un serbatoio di un caccia, sganciato, di produzione americana. Lo sa che la società produttrice ha detto che non possiamo fornirvi qual è l'aereo, però sono codici che si possono ricostruire. E non le sembra strano che ci fosse il serbatoio di un caccia? Vada a dragare il Mediterraneo e vede quante cose trova. A 3.500 metri nella fossa tirrenica. Vada a vedere cosa è successo durante la guerra del Kosovo, che cosa c'è lì sotto. Ma quello verrà era un caccia contemporaneo di quel tempo. Ma non è anche nella seconda guerra mondiale. Quindi una bomba nella toilette che lascia in tonza la toilette, poi scompaiono... Non la lascia in tonza, no! Scusi, aspetti, io li assumo l'ho detto lei, eh? Ha detto lei la cintanza. Sì, c'è ancora il water sano e c'è ancora il lavandino sano. Allora, nella toilette ci sono dei tubi schiacciati e ci sono dei materiali schiacciati anche essi. Soltanto una pressione, mi sembra, di 400 kg per centimetro quadrato poteva provocarlo e questo è compatibile solamente con la bomba e non con i misi. Chi li ha schiacciati quei tubi? Scambiamoci i ruoli. Io sono il generale di Stato Maggiore e lei è un cittadino. E io le sto raccontando che è caduto un aereo da solo con una bomba, magari avesse due ore in ritardo. Quindi questa bomba come è stata posizionata? Con un timer che prevedeva il ritardo? Veggente. Ma mettiamo che ci creda. Poi le racconto, tutti i radiofari e i radar che intercettano quella zona erano spenti o i registi sono stati cancellati e le persone chiamate a testimoniare hanno disconosciuto le cose, le registrazioni, audio con le loro parole. I militari hanno disconosciuto le registrazioni con quello che hanno detto che è rimasto registrato. Lei, cittadino, crede a un generale che dice queste cose? Io no. Io in questo Paese vedo che ancora, anche senza un minimo avviso di garanzia, si mettono in crisi i governi perché la giustizia è rimasta l'unica barriera rispetto a queste derive di cui lei adesso si sta facendo interprete. Sto citando documenti che ho letto nelle sentenze. Lei deve leggere la sentenza di secondo grado. Quattro relazioni di commissione d'inchiesa. Lei ha letto solo priore. Secondo me lei non ha letto le commissioni d'inchiesa. Io ho letto le commissioni d'inchiesa. Si sarebbe invignato come me perché avrebbe capito che qualcuno ha dato l'ordine di tacere quando di fronte alla registrazione di uno gli viene messo davanti e dice tu quella sera hai detto guarda che sta accadendo un casino lì nel cielo e questa persona identificata dai suoi colleghi con la sua voce dice ah, non mi ricordo. Credo che ci sia stato dato un ordine di tacere. Forse aveva una motivazione strategica ma non è stato un bell'ordine. Guardi, lei non mi ha fatto un'intervista ma un interrogatorio. A me va bene lo stesso. Io non ho problemi di nessun tipo. Ha detto tutta una serie di cose, ripeto, attinte a questo filmato. Da documenti, che cito. A questo filmato che io non ho visto. E neanche lo vedrò. No, no, non ce l'ho attinte da questo filmato. In generale. Sono attinte dagli atti. Attinto a documentazione degli atti che sono stati tutti smentiti in giudizio. Quindi le commissioni d'inchiesa del Parlamento italiano ancora credo nella giustizia. Io credo nella giustizia, nei suoi pronunciamenti, soprattutto quando avvengono dopo tanti anni, dopo tante, diciamo, pagine spese, scritte, dopo tante testimonianze. Ma lei crede a un suo ufficiale, l'ufficiale Dettori che disse alla sorella della moglie c'è stato, abbiamo rischiato un sottoufficiale, abbiamo rischiato la guerra mondiale e poi è morto dopo aver detto questa cosa. Ci crede o in mitomane? Ecco la sua foto. In divisa. Ci crede alla parola di un uomo in divisa, generale? No. Non ci crede? Non credo né a lei né alla persona in divisa. Mi devono dimostrare che stiamo dicendo la verità. Allora, se questo sottoufficiale che lei ha mostrato è quel sottoufficiale che, diciamo, era a Borgo Piave, credo, o un nostro sito Rada. In Toscana. Quando è stata acquisita la sua testimonianza, il generale Podrini, che era il capo della unità Rada, che ha mandato la testimonianza, è stato indagato ed accusato di depistaggio. Perché che cosa ha scritto? Questa è la testimonianza, questa persona è affetta da una patologia psichiatrica. Quindi era un malato. Non è curioso che un altro ufficiale di un altro radiofaro si sia suicidato anche lui? Guardi, tutte le morti... No, questi sono due che erano tutte e due in un radar. È sospetto. Uno Otranto e un altro appoggio pallone. Ma lei è andata a ravanare in due milioni di pagine. Adesso mi sta tirando... Ma le sembra una cosa da posto. Poi mi dice, guardi, il massimo vola, mi dimostra che non è così. Cioè, queste due morti sono vere. Che erano due uomini in divisa sono vere. Tre testimoni riferiscono, la figlia, la madre e la sorella della signora, riferiscono di queste preoccupazioni riferite da dettori e lei non crede a un uomo in divisa. Allora era malato, va bene, lui era malato. L'altro era depresso, si è suicidato. Ma tutti sono depressi e suicidati, quelli che volevano parlare e che sapevano cose. Ecco qui, questo è l'uomo che era nel radar di Otranto. Lei non ci crede a questa idea? Nell'arco di più di dieci anni, dall'86 in poi per l'escezione, ogni morte occorsa a un appartenente all'aeronautica militare è stata associata laddove ce ne fosse stato anche un minimo appiglio alla vicenda di Ustica. Le faccio un esempio per tutti. No, 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 ci credo, ci credo. Perché le vittime si sarebbero inventate questo scenario di guerra? Io so perché lo dice, ma non so se lo può dire. Lo scenario di guerra era inventato. Perché se lo sono inventato? Perché Dario Bonfetti? Perché la signora Dettori? Perché tutti si inventerebbero una palla? Non lo chiede a me. Io però so la sua opinione. Lei abbia il coraggio di dirla se ce l'ha. Dunque, non è questione di coraggio. È questione, diciamo, di un'iniziativa di carattere legale che io ho in mente di avviare. Contro chi? Non si preoccupi. Sto facendo, diciamo, un'analisi per vedere se ve ne sono le condizioni perché non gli piace combattere battaglie persi e partire. Ma contro chi la vuole fare questa azione? Guardi... E ci dia la notizia. Io non voglio dare nessuna notizia. Non è un interrogatorio, è una domanda, siccome è una cosa che ha detto lei. Se poi questa cosa non la facciamo, diventa, diciamo... Ma contro chi la vuole fare, almeno, questo? Terese, per cortesia. È un segreto anche questo. Ma lei non mi deve fare interrogatorio. Ma lei vuole chiudere. No, è una cosa che ha detto lei. Non mi deve fare interrogatorio. È una cosa che mi ha detto lei. Lei ha detto le do notizie di un'iniziativa e poi si è fermato, ha fatto un omissis. Io, diciamo, mi accontento oggi, lo sa perché. Perché è la prima volta che mi è stato consentito di dire certe cose, anche se in una maniera così... Eh beh, certo. Diciamo, alla telese. Lei è un militare e io sono un mascalzone. Alla telese, lo sapevo, la conosco. E quindi... Perfetto. Contento, si fa per dire. Una vicenda dove non ci vuole... La contentezza... Lealmente, da uomini ci parliamo. Perché, diciamo, sistematicamente, tutte le volte che ho provato a dire queste cose che lei mi ha consentito di dire, anche in questa forma che è un po' lesca, sono stato tacitato. Bene. La verità di questa sera è che il generale dice, era una bomba a bordo, era una toaletta e tutto il resto sono fantasie. E così non c'era nessuna guerra nei cieli. Sono mistificazioni. Non c'erano gli aerei che ha detto la Nato. Quegli aerei da guerra e la Nato non c'erano. I caccia hanno volato, lo dice la Nato, col trasponder spento per non farsi tracciare. Mi colpisce leggere un documento di Nato. Lei non ci crede? Non c'erano. Io leggo quello che la giustizia ha pronunciato dopo tante indagini così faticose e così esaustive.